Ciao amici e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse io sono Alessandro Attiero e qua su YouTube condivido il mio percorso da imprenditore e investitore. Come ormai ultimamente sto facendo, anche settimana scorsa vi ho chiesto quale contenuto preferivate e come starete vedendo in questo momento, tanti di voi hanno votato di parlare dei miei investimenti. Io vi chiedo di rimanere davvero molto attivi anche nella community di YouTube perché spesso e volentieri i contenuti che poi vedete qua sul canale sono quelli che avete scelto voi e quindi questo è importante. Sono davvero contento abbiate scelto questo video perché nell'ultimo mese ho investito diversi soldini in un settore che finora avevo messo in stand by perché come ben sapete per circa due anni mi sono focalizzato sul mondo cripto, ho cercato di cogliere più opportunità possibile, mi sono creato un portafoglio che per me adesso inizia a essere interessante, ma è ora giunto il momento di bilanciare l'altra gamba, quindi tutto il discorso delle azioni, ETF, commodities eccetera eccetera. Ma prima di inoltrarci a capire cosa io abbia acquistato e perché lo abbia fatto, ritengo a ricordarvi che io non sono un consulente finanziario, mi raccomando, e che quindi quello che vedete non è un consiglio di investimento, semplicemente sto condividendo quello che io faccio ma voi fate di testa vostra, è fondamentale nella vita proprio fare di testa vostra. Fatemi sapere poi nei commenti se questa serie vi possa piacere magari aggiornata nel tempo, mese per mese, una volta ogni due mesi, quello poi lo decidiamo. Lasciate un mi piace perché è molto importante e mi aiuta con l'algoritmo di YouTube, poi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale che tutto sta roba che vi ho detto è stato un po' è gratis. Sono sicuro che qualcuno di voi si starà chiedendo ma perché sei entrato in questo momento che c'è tutto questo casino geopolitico? Perché dalle mie considerazioni, che potrebbero essere molto sbagliate, in questi periodi, soprattutto osservando un po' il mercato, si possono avere certi titoli, certi indici a dei prezzi migliori del solito, proprio sfruttando la volatilità del momento dovuta a delle incertezze tra guerre, stati, eccetera. Ok, questa è la mia analisi, potrebbe essere ampiamente sbagliata, proprio per questo è giusto che ognuno si faccia la sua idea. Pensate che io questo mese sono entrato con più di 5.000 dollari, appunto sparso poi in vari titoli che tra poco andremo a vedere, parte di questi. Poi magari si potrebbe fare un video dedicato, ripeto, agli aggiornamenti di questo portafoglio. Attenzione però che questi periodi possono essere assolutamente delle armi a doppio taglio, non sai cosa verrà dopo, non sai che stato dichiara cosa a che altro stato, quindi davvero fate i vostri studi e poi agite, mi raccomando. Comunque finalmente è giunto il motivo di parlare un pochino di che titoli io abbia aggiunto all'interno del mio portafoglio e soprattutto perché abbia scelto quel titolo piuttosto che un altro. E soprattutto c'è una cosa che secondo me molti potrebbero apprezzare e invece altri un po' storcere il naso. E vai, è giunto il momento di vedere, non vi condividerò la schermata, almeno credo, perché preferisco che il servizio che utilizzo non venga sponsorizzato, così scegliete voi. Questo è un video totalmente proprio limpido, totalmente senza sponsor, tranquillo, ok? Voglio che sia così. L'unico piccolo indizio che voglio darvi è che partirò dall'azione o quello che è su cui ho investito di più e arriverò a quella su cui ho investito di meno. In realtà ci sono poi dei titoli su cui ho investito lo stesso importo, non voglio dirvi gli importi precisi per titolo, però dai, ho voluto dirvi questa cosetta qui. Sapete, probabilmente la prima posizione è abbastanza inaspettata, perché è un CFD sull'oro. A me piace davvero tantissimo l'oro e trovo che sia un'ottima riserva di valore, d'accordo? Non sono dell'idea che si diventa ricchi investendo nell'oro oggi e tra dieci anni ci ritroveremo X quantitativo. Bensì mi permette di abbattere tutto il discorso dell'inflazione, ma soprattutto io sono dell'idea che quando succedono questi casini, come in questo periodo, l'oro è protezione. Ok, questa è la mia ideologia, il mio pensiero e ecco perché effettivamente io ho acquistato una grossa posizione sull'oro. Secondo titolo all'interno del mio portafoglio, che anche questa volta è un CFD, proprio per potermi permettere di frazionare l'importo che poi investirò in maniera fissa ogni mese, di cui non vi ho ancora detto nulla, è l'SP500. Se non lo sapete l'SP500 è un indice che contiene al suo interno le prime 500 aziende statunitensi per capitalizzazione. Potete ben capire che è un indice molto interessante e che nella storia ha dimostrato di avere una stabilità molto interessante, tranne in questo periodo dove giustamente c'è un po' di casini di Stato, dove io sono subentrato in maniera molto molto cattiva. Terzo CFD all'interno del mio portafoglio è quello del Nasdaq, per chi non lo conoscesse è un indice che contiene le migliori aziende in ambito tecnologico e anche questo ha dimostrato nel tempo di essere avvero molto stabile e di avere una crescita sul lungo termine interessante. Queste due azioni ve le dico assieme, una è Google, non sono qui nemmeno a dirvi il perché, e l'altra è Alibaba, colosso cinese, una specie di Amazon effettivamente cinese per chi non dovesse conoscerlo ma è molto strano e che si è svalutata tantissimo nell'ultimo anno e che quindi mi sembrava interessante entrarci. Dopo queste due adesso vi parlerò di altri titoli, cose che ho all'interno, non in maniera precisa ma vi dico il perché ho voluto fare effettivamente questi vestimenti. Il mio lavoro consiste anche nel testare delle piattaforme o addirittura provare ad investire in un certo settore, in un certo prodotto eccetera e portarvelo qua sul canale. Questi due titoli che non vi dirò il nome fanno parte proprio di questa sezione del mio lavoro, ovvero il testare, perché hanno un alto rendimento per quanto riguarda i dividendi, però non li ritengo titoli sicuri, anche se però ho fatto le mie analisi. Quindi ho questi due titoli nel portafoglio per testare effettivamente un rate di dividendi molto alti ed infine ho anche una criptovaluta all'interno di questo portafoglio che permette anche di investire nelle cripto perché sto testando invece un'altra funzione all'interno di questo servizio. Comunque direi che vi ho presentato pieno il mio portafoglio azionario, se così vogliamo dire, e delle commodities. L'unico consiglio che mi sento di darvi è quello di diversificare a pieno i vostri investimenti. Magari ci farò un video dedicato, fatemelo sapere se vi potrebbe piacere, però investite davvero in tanti settori, in tante nazionalità diverse perché questo è importante e non sottovalutate magari i preziosi, le commodities varie perché potrebbero salvarvi in certi momenti dove tutto il resto del mercato non sta rispondendo bene. Questa è l'unica cosa che mi sento di dirvi e posso probabilmente dirvi e spero che questo video dove abbia condiviso con voi il mio portafoglio, il mio nuovo portafoglio, io già in passato investivo ma poi avevo ritirato tutto per potermi focalizzare a pieno sul mondo cripto e finalmente sono ritornato a gamba tesa anche qui. Mi fa davvero molto molto piacere. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti della visione. Ciao!